buonasera a tutti benvenuti da masternick siamo in diretta il sabato sera del convento di nonato il sabato dinner and dance andiamo a intervistare qualcuno dei nostri festeggiati qualcuno degli ospiti di questa serata eccolo qua uno di questi seguimi seguimi camera allora buonasera ciao come stai bene 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 allora questa capigliatura arcobaleno da dove arriva me l'hanno arrivato ai miei fratelli un'idea loro non so perché i tuoi fratelli i tuoi bro esatto è vero che vi dice vi dice bro 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 sei un po di quel genere hip hop un po suega suega no 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 però va bene così da mi sto divertendo ok non ti piace quindi i generi pop americano che di solito tra tra voi bro no la musica si mi piace però non sono di quel genere lì non è che lo seguo quello ti piace ma ti piace il reggaettone essendo latino mi piace reggaettone latino da dove da dove santo domingo santo domingo ehi la e vivi qui si si a verona ville franca da quanto da 23 anni abito a verona vabbè quindi ormai veroni veroni veronesissimo veronesissimo allora la domanda fondamentale da fare a un ragazzo di verona è la seguente pandoro o panettone pandoro pandoro che la risposta giusta quindi ti piace pandoro di verona se è uno spettacolo allora con chi ti sposerai quando come sposo con francesca il 10 settembre 2017 anche lei di verona se sei di villa franca a villa franca va bene quindi l'hai conosciuta qua ok al village al village ok ma in quanto di santo domingo ti piace anche ballare quindi tipo la salsa la baciata 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 prima di tutto baciata ci fai due passi ti va veloci dai dai per la camera per i nostri dai dai due passi veloci vai 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 eccolo guarda lo guarda lo movimento di santo domingo eccolo qua eccolo qua il movimento di santo domingo e su questa bella ballata vi salutiamo ricorda ancora una volta al pubblico come ti chiami zilbert da dove vieni da verona ok villa franca e un saluto alla tua futura moglie dai ciao francesca ti amo grazie ciao alla prossima buona serata ciao ciao